Buongiorno, sono di Soncino, ho 50 anni, vivo a Soncino e lavoro a Soncino, infatti sono docente di arte e immagine presso la scuola media dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII, ho un'attività professionale, sono architetto, mi occupo anche di amministrazione condominiale e a completare un po' l'impegno nella società soncinese mi occupo anche di alcune attività culturali, in quanto sono cofondatore di un gruppo giovanile teatrale che si chiama Arca di Noè, formato da miei ex alunni, oramai ventenni e quindi proiettati ad affrontare altre esperienze universitarie e sono membro del comitato carnevale soncinese che è una realtà che da oramai 30 anni si è imposta soprattutto per le attività ludiche del martedì sera, cosa unica nella provincia di Cremona e potremmo dire in tutta la regione Lombardia. Ecco, come esce la sua candidatura? La mia figura come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative ha avuto quello che io ritengo essere il percorso più logicamente democratico che possiamo offrire alla partecipazione della cittadinanza. Esco infatti da una competizione di primarie indetta nel gennaio scorso, l'11 gennaio scorso dove con me hanno partecipato a questo futuro onere ed onore di essere candidati sindaci alle elezioni altri partecipanti di altre compagine politiche. Io ho avuto la fortuna e ho avuto l'onere e l'onore di ricevere questo mandato molto importante da parte di un'alta partecipazione di cittadini soncinesi. Infatti guardando l'affluenza alle primarie ben 750 cittadini soncinesi hanno partecipato e hanno scelto, quindi con una percentuale all'incirca del 12% sui votanti che ha portato questo evento a qualificarsi come l'evento di primarie in regione Lombardia più significativo dal punto di vista della partecipazione. Io ho avuto un'affermazione che si è basata sul voto che 366 partecipanti mi hanno confermato e da qui è nata appunto la candidatura che mi porta oggi a essere candidato sindaco della lista Cambia Soncino. Come candidato sindaco della lista Cambia Soncino che osservazioni, che critiche ha da fare all'attuale amministrazione di centro-destra? Sicuramente Cambia Soncino è l'unica alternativa credibile e coerente di opposizione all'attuale amministrazione di centro-destra. Questa amministrazione che ha governato per 5 più 5 anni, in un totale di 10 anni ha saputo fare ben poco se non nulla per la comunità soncinese, togliendo Soncino quel ruolo di centralità che negli anni precedenti Soncino aveva sempre avuto e che l'avevano imposto nel panorama e provinciale e regionale. Soncino ha perso quel ruolo di accentratore di servizi, accentratore di cultura che ha connaturato nel suo essere e che lo porta a essere in naturale relazione con province come quella bergamasca e quella bresciana con cui si possono oggi, si potranno in futuro, intessere interessanti rapporti di potenziamento e di coinvolgimento della comunità. Questa amministrazione ha isolato Soncino attuando una politica di suddivisione divisoria della cittadinanza, favorendo molto spesso interessi di pochi a scapito dall'interesse collettivo e comunitario. Quindi qual è il programma di Cambia Soncino? Cambia Soncino ha come obiettivo quello di riconoscere a Soncino un governo che è un un'amministrazione di apertura, di apertura verso nuove opportunità, verso nuove esperienze sicuramente in contrasto con quell'ottica di conservazione e di chiusura verso l'altro dove peraltro intendo qualsiasi esperienza extra locale che l'amministrazione di centro-destra ha in questi dieci anni portato avanti. Noi abbiamo identificato alcuni punti, oppure possiamo chiamarle mosse, sette mosse con cui vogliamo cambiare effettivamente Soncino. Mosse che sono punti specifici del programma e che adesso in maniera sintetica provo ad elencarvi. sicuramente uno di queste sette mosse, uno di questi sette valori è quello dell'educazione quello dell'educazione mirata ad un rafforzamento soprattutto di quelle fasce più giovani della società, fasce che vogliamo coinvolgere e responsabilizzare con una sensibilità civica costruttiva e non farle sentire abbandonate e passivamente succubi di decisioni prese dall'altro da altri. E qui i rapporti con quelli che sono le istituzioni e le associazioni giovanili da quelle sportive a quelle istituzionali come la scuola diventeranno per la mia amministrazione fondamentali. Il secondo punto è quello dell'economia. Rienvigorire una realtà importante che è stata negli anni scorsi quella di Soncino sviluppo con le potenzialità che ha dato alla imprenditoria soncinese è uno degli obiettivi, aprendola a nuove tecnologie e attività imprenditoriali che possono favorire soprattutto le attività giovanili. Il terzo punto è sicuramente il welfare, l'attenzione e la riduzione del disagio sociale e delle criticità sociali che Soncino come tutti gli altri comuni sta vivendo. Il welfare, l'attenzione alle situazioni di criticità e del disagio sociale ci vede in prima linea, è uno dei punti, è il punto anzi che nel programma amministrativo che abbiamo depositato contestualmente alla lista dei 12 consiglieri il primo maggio abbiamo voluto evidenziare le criticità sociali che come ogni comune Soncino presenta, il disagio sociale che molte famiglie vivono a causa della congiuntura infelice che stiamo vivendo, può essere affrontato andando a eliminare quelle sacche di spreco economico che ancora sono presenti nella gestione amministrativa. Nel welfare, nella cura del fabbisogno della comunità sicuramente una nostra particolare attenzione sarà data alla casa di riposo. La casa di riposo di Soncino è una realtà importante che sta vivendo sicuramente momenti di una certa difficoltà ma che come amministrazione ci sentiamo di dovere appoggiare e aiutare nel superamento di questi momenti di difficoltà. Il quarto punto o meglio la quarta mossa è il paesaggio. L'attenzione, la tutela, la valorizzazione dell'ambiente soncinese sono stati e sono per cambio a Soncino uno degli obiettivi e delle mosse principali da valorizzare per ritornare a rendere Soncino attrattivo anche da un punto di vista di turismo ecosostenibile. Il quinto punto è la sicurezza. Questo valore che da più parti è profondamente sentito come un bisogno reale diventerà oggetto di valutazione di un tavolo che sistematicamente affronterà le esigenze dei cittadini in confronto con loro e proprio il confronto con i cittadini, il continuo rapporto con la comunità sono alla base del sesto punto. Il concetto di partecipazione a cui questa attuale amministrazione di centro-destra ci ha disabituati è invece fondamentale per la nostra amministrazione, per cambio a Soncino. Cambio a Soncino è nata da un processo partecipativo e cambio a Soncino vede nella partecipazione collettiva della comunità e dei suoi rappresentanti l'unico strumento per poter corrispondere a esigenze reali, a che da più parti abbiamo potuto già considerare, sono stati molto utili per definire il nostro programma e diventeranno la base della nostra azione amministrativa. Il settimo e ultimo punto che si lega strettamente con il precedente è la trasparenza. La mia vuole essere una amministrazione trasparente, proprio per dimostrare la correttezza, l'onestà d'azione mia e dei consiglieri che con me amministreranno Soncino. Per trasparenza e partecipazione intendo anche la possibilità di trasmettere informazioni sistematiche e continue alla cittadinanza, ripristinando alcuni organi comunicativi che l'attuale amministrazione di centrodestra ha soppresso in maniera direi anche arrogante, privando la cittadinanza di quelle informazioni che sono invece alla base di un buon governo della città. Riproporre uno strumento tradizionale come il giornalino partecipare, che ormai da più anni l'amministrazione non pubblica, è uno degli obiettivi iniziali, così come obiettivo sicuramente facilmente raggiungibile sarà la trasmissione in streaming quindi in diretta delle sedute consigliari. Questa logica di partecipazione e di trasparenza un ruolo molto importante hanno per Cambia Soncino le realtà delle frazioni. Cambia Soncino è di fatto Cambia Isengo, Cambia Soncino è di fatto Cambia Villa Campagna, Cambia Soncino è di fatto Cambia Gallignano perché nella logica di condivisione vogliamo superare quegli atteggiamenti campanilistici su cui la maggioranza di centrodestra ha spesso giocato ottenendo di fatto una separazione insensata che ha portato molte realtà locali a non sentirsi parte di una comunità. Cambia Soncino è una proposta che vuole toccare tutte queste realtà delle frazioni, vuole annetterle effettivamente di fatto nella amministrazione comunale ed è per questo che uno dei punti fondanti direi del programma di Cambia Soncino è ripristinare un organo consultivo con membri delle frazioni che faccia da intermediario tra l'amministrazione e le frazioni stesse. Una sorta dei vecchi comitati di frazione, vecchi dico perché risalenti agli anni 70, che si sono persi nel tempo e che invece confrontandoci con alcuni abitanti delle frazioni di Soncino abbiamo sentito essere una necessità primaria proprio per togliere quel senso di isolamento e di separazione che ha favorito il nascere appunto di un sentimento divisorio. Il voto a Cambia Soncino è un voto di impegno, è un voto di impegno perché si deve essere consapevoli che non è più tempo per stare a guardare. È necessario prendere ora una posizione chiara, esprimere come si desidera che Soncino sia amministrata nei prossimi 5 e nei prossimi 10 anni. Se, ripeto, con una volontà di amministrazione aperta, aperta al territorio, aperta alla cultura, aperta alle esperienze e alle opportunità e potenzialità che Soncino ha, oppure se si vuole chiudere in un'idea conservatrice, fuori dal tempo, anacronistica, medievale, nell'ottica del Gran Ducato che per 10 anni qualcuno si è vantato di svolgere. Il voto a Cambia Soncino è un voto di apertura, è un voto di speranza, un voto di entusiasmo, un voto che rappresenta per la comunità innovazione e uno sguardo alla contemporaneità. Se questi sono i valori che volete, che vuoi come cittadino portare avanti, Cambia Soncino è l'unica realtà credibile che nella prossima tornata amministrativa devi considerare e devi votare. Grazie a tutti.